ogni quanto tempo gli italiani ridipingono la propria casa c'è una parte della casa che magari rimane più a lungo per non essere ridipinta quindi quella che si tratta del colore base che possa essere il bianco il bianco caldo però negli ultimi anni c'è sempre molto di moda da fare una parete a ceno con un colore forte una decorazione forte e questa viene per fortuna ricambiata molto spesso anche perché da nuova energia all'interno di una casa si può individuare una tendenza dei prodotti e dei colori nel nostro settore le tendenze ci sono a lungo termine per quello che riguarda l'insieme o la parte più grande di un edificio sia che sia un interno sia che sia un esterno sia che sia una casa privata o che sia un albergo la maggioranza dei pareti non si dipingono tutti i giorni quindi non c'è la stagionalità c'è una parte particolare che possa essere una parete all'ingresso possa essere la reception di un albergo che questa invece viene rinfrescata più spesso per dare anche energia nella casa allora lì possiamo parlare di tendenza in questo caso come macro tendenza quella più lunga nell'ultimo periodo le tinte più neutre calde i bianchi caldi grigi caldi sono quello che sia la tendenza anche perché ci permettono di accostarci con la maggioranza dei colori e anche poi per i cambiamenti futuri per quello che riguarda invece i colori di tendenza più che altro le finiture ai tatti le texturizzazioni la varietà nei materiali e nelle luci dei materiali è quello che adesso prende sempre più piede c'è attenzione per l'impatto del prodotto sull'ambiente domestico l'utente privato che sia professionista che sia è sempre più informato riguardo al tipo di materiale all'impatto ambientale e ne vuole sapere di più richiede informazioni sempre più corrette dal punto di vista dei prodotti che utilizza quindi dai produttori su che impatto hanno i prodotti se sono inquinanti o non sono inquinanti che materie prime utilizza gli utenti professionali e i clienti privati hanno richieste simili o differenti se qualche anno fa questa differenza la forbice era molto più ampia ultimamente si sta restringendo notevolmente e sempre con maggiore consapevolezza prevale il fai da te o l'impiego di operatori professionali al momento ancora l'operatore professionale però il fai da te è in forte espansione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!